ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole oggi ragazzi era previsto un altro video il video sul pro per piccole di sì mi sto tenendo nel marsupio da tre mesi a questa parte però ragazzi dopo le discussioni che sono nate interessanti e ragazzi nate sotto il video del fobos che è uscito lunedì secondo me visto che stiamo facendo questa rubrica dedicata ai neofiti è meglio spiegare un po il coltello nel bosco posso portarlo cosa posso portare è tollerato secondo me è un video che a livello di neofita è importante da capire quindi ragazzi andiamo a farci questa bella chiacchierata insieme eccoci qui ragazzi pronti a farci questa bella chiacchierata tra amici ragazzi video magari ripetitivo però ci tengo a fare chiarezza sull'argomento ripetitivo perché abbiamo già parlato della legge che regolamenta il porto del coltello in italia e di bushcraft cosa si può fare cosa non si può fare in italia se non avete sentito questi video andate a sentirvele ce ne sono due per parte andate a sentirveli però visto che abbiamo iniziato da poco questa rubrica dedicata ai neofiti secondo me è importante far capire perché siete in tanti che mi scrivete importante far capire al neofita che andare girare nel bosco con un coltello non è sempre concesso non è vado nel bosco e allora ho bisogno il coltello ricordatevi che il giustificato motivo esiste anche nel bosco quindi per fare un esempio vado nel bosco mi ferma la forestale ho un chiudibile ragazzi chiudibile nel bosco a meno che non vi mettete proprio male e siete dei bingo bongo perché comunque l'educazione prima di tutto giustificare un chiudibile un multitool nel bosco ragazzi per tagliarvi il salamino state facendo la gita con la famiglia e tutto un chiudibile nel bosco lo giustificate cioè dovete trovare proprio chi vuol farvi problemi però ripeto con l'educazione secondo me si può tranquillamente parlare quindi il chiudibile per la mia scampagnata con la famiglia va sempre bene vado a farmi la mia gita al chiudibile mi fermano lo tengo per il salamino perché faccio un picchettino per tirar su due cavi e i due due fili attaccare il tarp ragazzi è tollerato alla fine diciamo che con l'educazione è tranquillamente tollerato passiamo un calibro più alto che è già l'S1 ragazzi avete già un bel coltello è un coltello fisso qui dire con questo coltello ci taglio il salame non è un giustificato motivo perché non tagli il salame con un lama fissa di questa dimensione stiamo parlando di un coltello piccolino comunque volendo vedere però ragazzi un chiudibile è una cosa un coltello fisso è un'altra ma io nel bosco sai ci faccio i picchetti attacco tarp poi faccio il sostegno per la testa mi faccio lo sgabellino diciamo che se trovate chi chiude un attimino un occhio il coltello così nel bosco va bene nel senso potreste riuscire a gestire la cosa però anche lì dipende dal bosco per chi è della zona per chi è della mia zona parco della brughiera ragazzi se siete nel parco della brughiera con questo siete fuori di testa perché a e parco non potete tagliare nulla e b ragazzi che cavolo ci fate che a due metri di qua e due metri di là c'è l'euro spin e ragazzi la pizzeria da zio gigio ragazzi la pantera rosa la pantera rosa adesso vi chiederò un contributo al canale visto che vedete sempre che taglio le sue scatole c'è la pantera rosa di qua e di là ragazzi un coltello così nel bosco dipende dove siete siete in trentino sud a ramon dispersi nei monti del trentino va bene cioè nessuno può farvi problemi per un coltello di questo tipo però se siete in un bosco tra virgolette attaccato a una zona urbana o in un parco ragazzi voi il coltello non avete motivo per averlo il coltello fisso non avete motivo voi dovete giustificare il motivo e il motivo non è solo nel bosco non è solo nel bosco il motivo ok precisiamo sta cosa se vi fermano perché il coltello perché sono nel bosco ciao vieni con noi cioè il discorso è questo ragazzi si va incontro a denunce penali quindi concentrati su sta roba dovete capirlo bene ragazzi che non è il fatto sono nel bosco allora giustifica tutto anche perché ragazzi sono nel bosco così ve lo faccio anche vedere visto che non vedo l'ora di provarlo lo provo questo weekend kodiak della work tough gear ragazzi sono nel bosco con sta roba ma che cosa gli dite ciao come mai il coltello come è questo coltellone nel bosco è perché sono nel bosco sono nel bosco non è giustificazione ma io ci taglio legno non puoi tagliarlo e ma io devo fare fuoco non puoi accenderlo c'è una cosa di questo tipo per emergenza che cavolo c'hai di emergenza per aver dietro una vanga affilata praticamente ragazzi ripeto alcuni ambienti questo coltello passa perché comunque sono ambienti lontani dai centri abitati quindi comunque l'emergenza ci può sempre stare tutto poi ovviamente sempre a discrezione di chi vi ferma questo video non è per fare terrorismo ragazzi perché quando andiamo a fare i campi poi magari con il coltellone grosso lo vedete sempre nel senso ce lo portiamo però è rischio cioè è un rischio ragazzi questa cosa durante un campo non la giustificate comunque perché il legno non potete buttare giù le piante non potete accendere il fuoco che motivo avete di avere sto coltello qua nel bosco non riuscite a trovare un giustificato motivo per una per una tega tanto stavo dicendo tega si può dire penso anche sputato sulla lama ragazzi non lo giustificate quindi non è il bosco non è la giustificazione risposta sono nel bosco non è un giustificativo che vi permette di passarla tranquillamente secondo me e parlo a livello di neofiti ragazzi poi mi dite ma tu lo fai allora ragazzi quando vedete me l'ho già letto in più video vedete due posti o il bosco o il rifugio il rifugio è terreno mio cioè è mio ci sto c'è la casa dietro quindi praticamente faccio un po quello che voglio nella mia zona di terreno ok sul resto del monte no sul resto del monte non giro questa roba e ragazzi capiamoci questi qua grossi infatti solitamente li vado a provare lì il pezzo di bosco che vedete è un appezzamento privato che mi hanno dato in gestione quindi un privato mi ha dato il suo appezzamento per tenerglielo pulito per tirare su la legna per terra per fare la legna che lui passa a prendersela quindi i coltelloni quelli grossi quelli immensi che vedete ragazzi cerco sempre di provarli sul rifugio o se proprio a lì nel bosco ma sono due appezzamenti privati ok non pensate che girare sul suolo pubblico anche se siete nel bosco con teghe così che è bellissimo ragazzi sia giustificabile perché non lo è poi dipende sempre da chi vi ferma e cosa vi inventate però dire sono sui monti o sta cosa perché ho paura che stanotte resto bloccato nel bosco è un po presa con le pinze ragazzi perché ricordatevi che non potete buttare su alberi non potete accendere fuochi quindi il coltellone così a cosa vi serve per autodifesa bene a posto voi siete uscite con sta cosa subito via con me ragazzi subito via siamo in italia ragazzi la legge è questa la legge dice che dovete avere un giustificato motivo ripeto per la centesima volta dire sono nel bosco non è giustificato motivo dovete avere un motivo valido valido sto facendo un'uscita di tre giorni in cui in questo cammino non c'è nulla non c'è un pernotto attrezzato che niente sono nel bosco io e basta consiglio personale mio coltellino piccolo e accetta è sicuramente più tollerata ok ma con l'accetta ci fai le stesse cose maligne che potresti farci col coltellone sì ma sicuramente coltello 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 all's1 ragazzi però s1 o sta misura di lama fissa perché nel bosco preferisco sempre avere lama fissa e un accetta o un seghetto ragazzi sono tollerati anche se fate un per un giro di tre giorni avete sta tega a parte che dovete portarvela che pesa quasi un chilo di coltello però ragazzi secondo me parere mio soprattutto i neofiti non andate in giro con sta roba nei boschi perché rischiate veramente tanto la legge questa ci piace non ci piace è questa ragazzi spero di avervi fatto un attimino di chiarezza ripeto un video dedicato ai neofiti capite bene cosa potete portare il chiudibile diciamo che lo potete portare anche per le passeggiate con la famiglia anche lì non è detto che poi chi vi ferma accetta il fatto che voi avete il chiudibile per tagliare il salame però solitamente ok se siete lontano da centri abitati quindi su in montagna proprio non dietro casa dietro l'eurospin nella juola dell'eurospin un coltello fisso di questa dimensione secondo me parere personale roba così grossa ragazzi se non avete appezzamenti privati o siete in amazzonia secondo me non ha senso da portarsi per il resto ragazzi nulla chiudiamo qua settimana prossima vedrete il video del proper ragazzi da questa legislazione italiana che un po così ci piace non ci piace quella è dal farcatto del tagliagole è tutto buona giornata e ciao 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 ciao